buongiorno amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 26 gennaio 2023 abbiamo diverse notizie questa mattina ci sono ancora delle repliche per quanto riguarda il maltempo abbiamo notizie di cronaca le leggeremo poi sui giornali al corriere adriatico il resto del carlino intanto passiamo come tutti i giorni attraverso l'almanacco del giorno ecco i santi che si festeggiano oggi sono i santi timoteo e tito vescovi e discepoli di san paolo erano i suoi amati soprattutto e fecero conoscere le sue lettere le lettere di san paolo che ancora oggi si leggono durante le celebrazioni religiose le lettere dell'apostolo in molte comunità del mondo di allora furono molto cari a san paolo che li benedisse e appunto li nominò vescovi vediamo anche le previsioni del tempo il tempo continua a essere perturbato e instabile in tutta la regione vediamo che ci sono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge e poi ci sarà un graduale assorbimento durante il pomeriggio nel corso della giornata soprattutto venti tesi al mattino forti al pomeriggio il mare e mosso le temperature oscillano con una breve escursione termica dai 6 agli 8 gradi insomma si mantengono piuttosto fredde apriamo adesso il resto del carlino sulla pagina di Fano Fano più sicura ecco telelaser e velox mobile che cosa significa questo titolo soprattutto si parla della statale adriatica sud quella che va oltre il fiume metauro verso Marotta c'è stata una riunione recentemente soprattutto sulle tesi dei residenti che vorrebbero una alternativa alla statale adriatica in modo da sollevare il peso del traffico su questo tratto di strada che è molto pericoloso anche se sulla stessa ormai gli incidenti ci sono ridotti a causa della videosorveglianza che è stata istituita dall'amministrazione comunale ma adesso questa videosorveglianza si implementa sempre di più sicurezza Fano Sud l'amministrazione comunale dopo l'autovelox fisso se ne sono due messi a metauriglia punta sui controlli della polizia locale con il telelaser e a breve con l'autovelox mobile un autovelox che può essere spostato in diverse arterie da una parte all'altra quindi attenzione bisogna sempre osservare i limiti di velocità perché poi le multe che si ricevono quando uno supera questi limiti sono piuttosto onerose mentre si attende che le quattro amministrazioni pubbliche interessate che sono quelle della provincia e dei comuni di Fano Mondolfo e San Costanzo scelgano il tracciato della complanare sud la strada alternativa appunto alla statale 16 da Marotta a Metauriglia e individuano i finanziamenti i residenti continuano a tenere alta l'attenzione sulla statale adriatica e sulla sua pericolosità l'autovelox a Metauriglia installato a giugno dello scorso anno ha già prodotto effetti positivi per ridurre la velocità ma i cittadini continuano a pretende sicurezza non bastano gli autovelox del resto gli autovelox hanno prodotto molte 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 multe quindi anche diverse proteste da parte di coloro che hanno superato di 5 chilometri 6 chilometri il limite consentito e hanno dovuto pagare oltre 100 euro di multa 140 150 secondo appunto di come è stata fatta l'infrazione ebbene i residenti dicevo non si accontentano quello è uno tratto di strada molto molto pericolosa e ci vorrebbe una alternativa e di qui ancora si sta discutendo ecco perché intanto aumentano i controlli e gli spiedenti per cercare di ridurre la velocità poi abbiamo un articolo qui che riguarda un'altra ditta che al di là dello stipendio che paga regolarmente i suoi dipendenti ha dato un bonus in più un bonus che servirà per pagare soprattutto l'aumento delle bollette caro bollette la bonatti in soccorso ai dipendenti il direttore di risorse umane prioritario mitigare il disagio delle famiglie più colpite ha dichiarato in quasi 200 hanno ricevuto il bonus si tratta di un contributo nella busta paga del 10 gennaio che varia da 1000 a 2000 euro sono ben 270 i dipendenti di bonatti distribuiti in tutta italia nelle varie sedi italiane che hanno ricevuto un bonus di questi circa 170 hanno ricevuto un ammontare diverso dall'uno dell'altro in base alla propria busta paga insomma è un considerevole aumento non si tratta di qualche centesimo come spesso si di propaganda perché si è aumentato qualcosa invece un aumento sostanziale quindi la bonatti si allinea con quelle ditte benemerite illuminate che hanno dato un qualcosa in più ai propri dipendenti e a proposito del caro bollette dobbiamo dire che lo sciopero della benzina è stato revocato dai benzinari però insomma tra ieri e oggi già i prezzi della benzina sono cambiati ieri era 1 7 95 oggi sono 1 8 e 20 pressa poco 1 8 e 19 insomma 20 centesimi in più che hanno subito subito un un balzo rispetto all'apertura degli distributori e beh qui c'è un balzo da un giorno all'altro insomma non si capisce più come i prezzi possono essere quantificati perché veramente variano in maniera considerevole di giorno in giorno allarme frane più soldi dal pnrr a cartoceto l'appello accorato del sindaco rossi servono risorse per far fronte all'emergenza dei nostri territori serve un grande piano nazionale ha detto rossi è una ricalibrazione del pnrr per contrastare la fragilità del territorio e le recente piogge hanno messo in evidenza ancora come il territorio della nostra provincia sia fragile per quanto riguarda i corsi d'acqua ma anche per quanto riguarda gli smottamenti le frane nelle zone collinari questo è il monico del sindaco di cartoceto e consigliere provinciale enrico rossi che trae spunto dalle minacce del dissesto idrogeologico di cui è vittima sempre più spesso anche il nostro territorio solo nel comune di cartoceto ha detto rossi abbiamo rappresentato diverse situazioni urgenti quali un ulteriore crollo di un tratto di via delle mura per le quali l'amministrazione ha già predisposto uno studio di fattibilità per un importo considerevole pensate un milione centocinquanta mila euro che per un piccolo comune di cartoceto veramente è una cifra considerevole e poi c'è la messa in sicurezza degli argini in prossimità di civili abitazioni del corso d'acqua di rio secco per 370 mila euro l'eccessivo accumulo di acque meteoriche all'interno del centro storico tra via mazzini e via marcolini per 90 mila euro e la messa in sicurezza di via briglia per 125 mila oltre al tratto di mura di via peschiera per 20 mila euro bene fate la somma un po di tutte queste cifre vedete come occorrono sostanziali risorse per imbrigliare il nostro territorio ed ora parliamo di una piccola star di una giovane attrice che veramente ha raggiunto già delle vette molto molto alte nell'ambiente cinematografico addirittura una candidatura all'oscar si tratta di melissa la piccola melissa protagonista in un film da oscar è di monteporzio di castelvecchio insomma siamo lì ed è nel cast del corto disney le pupille scritto e diretto da alice rawr wage il paese è già orgoglioso di lei ovviamente avere una piccola star come amica è una cosa molto molto accattivante è di monteporzio è una delle principali protagoniste dell'unico film italiano candidato agli oscar per quest'anno il corto disney le pupille scritto e diretto da alice rawr wage e enlizza per il miglior corto live action lei è melissa falasconi dieci anni e mezzo ne compierà 11 il prossimo 16 giugno nella pellicola che è ispirata ad una ad una lettera che il samorante inviò al suo amico goffredo fofi per augurargli un buon natale accanto ad un cast di adulti di fama internazionale c'è anche questa ragazzina una ragazzina che ovviamente fa una parte considerevole si tratta della parte di serafina è quindi un ruolo principale quindi veramente è giusto sognare dice questo trafiletto lo vediamo qui questo sommarietto è giusto sognare e la gioia che proviamo è talmente tanta che non vogliamo porle nessun limite dice la mamma ovviamente orgogliosa della sua ragazzina ceriamo ancora la pagina siamo ad urbino e vediamo come ci sono provvidenze economiche per quanto riguarda le palestre l'arrivo di un sostanzioso finanziamento consentirà di completare le infrastrutture per gli istituti superiori si tratta delle palestre che verranno fatte alla laurana baldi e raffaello quasi 7 milioni e mezzo per queste strutture scolastiche il liceo laurana baldi e il liceo raffaello avranno delle nuove palestre a disposizione lo ha annunciato la provincia di pesaro urbino che spiega di aver intercettato quasi 10 milioni di euro ulteriori per gli impianti sportivi nelle scuole tra le risorse stanziate dal ministero dell'istruzione tramite i fondi europei next generation di questi 7,4 milioni saranno investiti per costruire appunto le nuove palestre e poi 2,4 milioni lo vediamo anche poi in un altro articolo pubblicato sulla pagina di fano serviranno per intervenire nel campo sportivo del campus scolastico quello di via tomassoni dove si gioca il rugby tra l'istituto l'istituto ex carducci e il cimitero urbano abbiamo un campo che deve essere valorizzato vediamo ora sempre sulla pagina di urbino un incontro che c'è stato tra il comitato che contesta la separazione della diocesi l'annullamento della diocesi e quindi con l'arrivo del vescovo di pesaro con lo stesso salvucci con lo stesso arcivescovo di pesaro un incontro rispettoso maschietto questa è la definizione che usa il giornale questa mattina dove gli urbinati hanno ribadito al prelato di continuare a insistere per una nuova nomina un faccia a faccia dunque schietto però ovviamente senza trascendere in episodi maleducati così possiamo dire un incontro in cui sono state ribadite le tesi perché fanno perché urbino avrebbe dovuto avere una diocesi autonoma così come gli altri comuni che fanno parte della diocesi come urbani a sant'angelo e sant'angelo invado ebbene abbiamo sottolineato hanno detto i contestatori il percorso seguito che il percorso seguito dalle autorità ecclesiastiche non è stato in linea con gli orientamenti del cammino sinodale della chiesa orientamenti che prevedono anche la corresponsabilità dei laici ebbene è stato un provvedimento che è stato subito non sono stati ascoltati affatto i laici e che fanno parte della diocesi rappresentanti della diocesi per cui ancora esiste questa contraddizione pescovo salvucci molto molto evangelicamente ha detto io sono un pastore di anime e quindi cercherò di insegnare il vangelo tanto a pesaro quanto urbino senza alcuna discriminazione questo ovviamente è la sua missione vediamo anche un altro titolo che riguarda l'entroterra vediamo da pecchio e le consigliere regionale rossi l'agenzia delle entrate diventi più accessibile e le consigliere regionali chiede maggiore attenzione per i centri dell'entroterra ed ora passiamo anche qualche notizia di pesaro vediamo come si ripropone l'episodio degli insulti di tipo razzistico che si sono verificati durante una partita di calcio insulti alla calciatrice sindaco in campo un amichevole per dire no al razzismo petrucci va a vicenza incontra la ragazza presa di mira è successo a jesi questa ragazza era faceva parte della squadra ospite il papà di una giocatrice della squadra di casa ha inveito invece contro questa ragazza di colore con certe espressioni che non il caso di ripetere ebbene e incontro la ragazza presa di mira durante una partita dalla mamma di un'avversaria dipendente comunale di monbaroccio il sindaco di monbaroccio ha voluto portare un bel messaggio fino a vicenza la storia della calciatrice nigeriana del vicenza femminile raffiat falechemi sule bersagliata dai commenti presumibilmente razzisti ha riempito una settimana fa la pagine le pagine di cronaca sportiva e ancora continua a farlo sciopero revocato oggi benzinaia aperti protesta inutile se non aderiscono tutti hanno detto gli stessi benzinai molti gestori di impianti di carburante ieri sono rimasti aperti se avessimo chiuso la gente sarebbe andata da altri il nodo accise i prezzi aumentano i clienti si spaventano gli affari calano e a guadagnarci sono governo e compagnie petrolifere ebbene anche i benzinai sono tra l'incudine e il martello perché da una parte abbiamo le compagnie petrolifere che impongono i loro prezzi dall'altra abbiamo i loro clienti che certamente di fronte a un aumento sconsiderato cercano di risparmiare il più possibile il rifornimento del loro serbatoio e quindi anche i benzinai perdono che i pochi centesimi al litro che corrisponde il loro avere e dunque parliamo delle cipolle di urbana di urbania un articolo immancabile nella fine di gennaio è arrivato il verdetto delle cipolle di urbania pioggia fino ad aprile poi una lunga estate ebbene sono previsioni che non trovano una documentazione non trovano una rilevanza scientifica ma vengono così ascoltate dai più da coloro insomma che guardano il barba nera e guardano anche le cipolle insomma hanno questi metodi empirici per così prevedere le evoluzioni del tempo l'usanza di prevedere l'andamento climatico si ripete grazie ad una delle sue più raffinate interpreti dice il resto del carlino si tratta di emanuela forlini i dodici spicchi esposti con pizzichi di sale nel corso della notte fornirebbero le indicazioni su come andrà il 2023 vogliamo fare piccole scorse bene gennaio tempo più stabile nei cosiddetti giorni della merla vuol dire che ci sarà o molto freddo o molto o molto tepore ma non credo che ci sia caldo febbraio mese freddo con precipitazioni pioggia nevischio e probabile neve marzo ancora perdurano le temperature rigide congelo e precipitazioni anche carattere neoso aprile variabile alcuni giorni piovosi maggio variabile ma tendente al bel tempo giugno perturbato all'inizio ma è poi instabile come sarà un po instabile tutta la prossima stagione estiva a luglio prevale il bel tempo agosto lo stesso a settembre bel mese solleggiato ottobre ancora tempo bello e molti giorni di sole a novembre variabile con qualche giorno deboli pioggi dicembre ritorno al freddo temperature molto rigide questo hanno detto le cipolle di urbania un altro articolo sul resto del carlino degrado profilo diretto con i cittadini e la cronaca di un fallimento il centrodestra contesta l'iniziativa dell'assessore franquellucci che ogni venerdì incontra i residenti dopo otto anni è una missione di colpa hanno così evidenziato qui non serve ascoltare ma intervenire ed ecco dove insomma ogni iniziativa che si fa viene ovviamente contestata dalla opposizione e anche se ci ascoltano i cittadini dice sapete benissimo com'è la situazione inutile che cercate di trovare questo contatto sapete dove intervenire dovete farlo intervenite al più presto e questa è un po è la sintesi del resto del carlino apriamo ora il corriere adriatico e vediamo come l'apertura sulla pagina di fano è dedicata alla settimana corta della scuola padalino una decisione che ancora continua a destare polemiche perché molti genitori non sono d'accordo con quanto deciso dal consiglio di istituto consiglio di istituto che ha deciso di non andare più a scuola il prossimo anno non quest'anno il sabato e quindi giorno di festa sabato e domenica ebbene molti genitori il sabato lavorano e quindi specialmente i genitori dei bambini che frequentano che frequenteranno la prima classe non sanno poi dove lasciare il proprio figlio e quindi questo è un problema poi insomma si accumulano anche ore di scuola e negli altri giorni della settimana i bambini escono alle tre poco prima delle tre del pomeriggio devono andare a casa poi devono pranzare devono fare i compiti devono abbandonare tutte le loro attività pomeriggiane insomma problemi ce ne sono e i genitori ora cosa fanno ora chiedono l'aiuto dell'amministrazione comunale la quale non ha voce in capitolo sull'attività didattica ma può essendo poi proprietaria della struttura scolastica cercare di sensibilizzare gli insegnanti la preside gli altri genitori che hanno aderito all'iniziativa affinché vengano così accontentati anche quest'altra parte di genitori che contesta il provvedimento settimana corta alla padalino non tutti i genitori apprezzano anziani accuditi in casa costi insostenibili sono aumentati e è un provvedimento del governo le remunerazioni delle badanti e degli assistenti insomma che aiutano i familiari a casa quando all'interno vive un disabile una persona fragile ebbene per molti questi costi sono diventati insostenibili e c'è il rischio lo evidenzia l'acli grazie all'aumento dei minimi contattuali pari al 9,4 per cento previsto per assistenti familiari le cosiddette badanti e nel soldone sono dai 94 ai 116 euro in più che si aggiungono ad un importo che non è leggero per quanto riguarda il pagamento di questo servizio e quindi c'è il rischio che molte famiglie siano costrette a rinunciare all'assistenza per quanto riguarda le persone che ne hanno invece bisogno e questo è un grido d'allarme che eleva l'acli del nostro territorio. Ed ora vediamo un articolo che riguarda il consiglio comunale che si è svolto ieri è un consiglio comunale speciale una seduta monografica che si tiene ogni anno in occasione del giorno della memoria per quanto riguarda l'olocausto la Shoah l'olocausto dei bambini in novecento che non tornano il professor Maida commuove tutto il consiglio l'impegno a non dimenticare già un consiglio comunale riservato al giorno della memoria è una seduta speciale dedicata in forma monografica come abbiamo detto alla Shoah ma la riunione che si è tenuta ieri nella sala ipogea della memoteca Montanari era ancora più speciale perché era ancora più significativa in quanto dedicata ai bambini la Shoah dei bambini pensate cosa vuol dire imperversare torturare uccidere dei bambini innocenti che non sapevano nemmeno di essere ebrei e che essere ebrei fosse stata una colpa lo hanno capito a loro spese nel momento in cui sono stati oggetto di sevizi e torture e via dicendo tutto qua tutti gli orrori che la Shoah ha comportato. Ebbene la relazione che ha fatto ieri il professor Maida è stata una relazione molto molto significativa che ha delineato come tanti bambini in Italia i bambini erano 7-8 mila i bambini degli ebrei e in novecento non tornarono più dai campi di sterminio nazisti e pensate cosa vuol dire novecento bambini trucidati e uccisi. Ebbene vi invito a leggere l'articolo non ne parlo perché veramente è difficile esprimere così a parola l'impronta tutto quello che è successo e che è stato raccontato in questa iniziativa. Parliamo di ambienti invece vediamo qui una tartaruga caretta caretta che è stata salvata per il rotto della cuffia nella giornata di ieri nei pressi di Marotta. Tra mareggiate e allagamenti si salva la tartaruga spiaggiata ma al tempo anche per il recupero della testugine tra gli interventi del municipale. Ebbene una tartaruga marina in difficoltà è stata recuperata l'altro ieri tra torrette e Marotta. L'animale era ancora vivo ma appariva molto molto provato a causa delle mareggiate che hanno poi danneggiato molte concessioni balneari. Quanto alla polizia locale gli agenti sono intervenuti in sette casi di allagamento ancora in questi giorni a Tombaccia nel cimitero a Rosciano in via Miraglio Capellini lungo la strada Flaminia a Fossa Santorso e a Chiaruccia. Per dare un'idea dell'intensità raggiunta dalle precipitazioni quelle veramente che sono cadute insistentemente da domenica scorsa una ruspa ha dovuto aprire un fosso in strada di mezzo a Metauriglia per deviare l'acqua pioviana verso un campo ed evitare che allagasse un'abitazione nelle vicinanze. Insomma ci sono stati anche momenti di pericolo. Vediamo la pagina della Valcesano. Della Valcesano il maltempo è anche occasione di divertimento per coloro che amano gli sci. Dal Monte Catria al Nerone un lungo weekend sugli sci. Aperte le strutture su entrambe le cime, tutti i servizi offerti agli appassionati e anche questo è un aspetto della questione. Mentre per quanto riguarda la pagina di Senigallia vediamo un fatto di cronaca. Una escandescenza fatta da un uomo così all'impronta. Litiga con la fidanzata e va fuori di testa. Martellate ai cartelli, a un'auto in sosta. Insomma ha fatto da matti questo trentenne perché poi era anche ubriaco, era in stato di ebrezza. In preda ad uno scatto d'ira un trentenne ubriaco ha preso a martellate alcune auto in sosta e dei segnali stradali danneggiando inoltre le porte e le inferiate delle finestre di un immobile. Insomma quello che gli capitava a tiro lui menava e bastonava. È emerso che aveva un tasso di poco inferiore ai 2 grammi per litro, dunque 4 volte superiore ai limiti di legge. Il trentenne così è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza. La patente gli è stata ritirata e il vericolo è stato affidato ad una persona idonea alla guida. Insomma una denuncia per tutto quello che lui aveva fatto. Vediamo una notizia di Pesaro. Per quanto riguarda di Pesaro un po' di tutto il territorio perché si parla della Banca delle Marche ancora sui giornali dopo il processo che si è tenuto in Ancona e che ha visto colpevoli, dichiarare colpevoli gli imputati. Qui abbiamo effetto banca, marche e credito. Siamo tornati a metà del guado. Ebbene vediamo che a livello nazionale il caso della Banca delle Marche fa sì che nel nostro territorio non ci siano più istituti locali capillarmente presenti come capitava una volta. I dati del centro studi della CNA regionale confermano il distacco economico tra Nord e appunto è il centro dopo il crack della Banca delle Marche. Ed è questa l'ultima notizia. Chiudiamo i giornali, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Noi ci risentiamo domani alle ore 7. A risentirci.